Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Leone e siamo qui oggi per fare un nuovo video sul gioco che non è il mio solito portale Infatti siamo su Shogun 2 Total War, il multiplayer con un ospite Saluti Buonasera Lui è... lui è mio amico, Ryukuda Non c'è molto a dire sul fatto che stiamo iniziando a giocare a Shogun 2 Total War insieme ai multiplayer Questa sarà una serie normalmente lunga, molto Credo, abbastanza Tanto lunga Perché l'idea di base è Nord vs Sud, quindi... Sì, ce ne vorrà di tempo Io direi già, io proviamo già pronto perché così almeno ci sono i caricamenti e parliamo durante i caricamenti Esattamente Io ho preso i date, lui ha preso i Shimatsu Magari lasciamo spiegare a ognuno le caratteristiche del clan Sì? Allora il mio clan dovrebbe essere incentivato principalmente sull'uso delle katane E sulla lealtà dei generali E ha una bella flotta, quindi posso giocarmela bene essendo molto sul mare Infatti in questa penisola riesco a giocarmela bene Mentre i date come caratteristiche? I date invece hanno tutto offensivo, nel senso loro non hanno molti bonus come lui Come unico bonus hanno il fatto principale che hanno un 10% alle cariche Nel senso che io devo puntarlo sull'offensiva quindi Su un'espansione aggressiva e veloce Ovviamente costruendo prima un'economia di base Quella che sto già cominciando a fare come ben potete vedere dal mio schermo Lui ha un vantaggio in questo senso però glielo lascio correre Beh io per tipo la non so quanta volta perché stavamo cercando di registrare questo video troppo Troppe volte Troppe volte Troppe volte Troppo volte sto attaccando canoia Lo faremo in automatico per evitare che ci siano problemi di bug Esatto Di bug Perfetto Allora L'ha fatta? Sono in netto vantaggio Sì no dovrebbe essere vinta Non è ancora partita Sì Fa vedere Ok Sì no la sta calcolando Schiacciati Perfetto Perché a me mi conta Perché io posso prendere parte come io E quindi a me conta Ah ok ok Capito Allora Cosa posso scegliere? Un'occupazione pacifica Infliggerà minori danni agli edifici militari all'interno della città Castello E allora direi occupazione pacifica Perché non ne vale la pena Il saccheggio è consigliato solo se tipo devi distruggere una città E sai che te li prendono in teoria Esatto Comunque Quindi ok Occupazione pacifica Gestisciti un po' l'economia Ok Ho intenzione di farmi subito una taverna Ebbene Che cosa sto facendo? Perché non Ah ok la sta costruendo Bene E poi Vorrei Migliorare La L'agricoltura E anche il villaggio costiero Sì sì Anche io ho fatto così Le prime cose che ho fatto sono quelle Penso che manderò L'esercito di nuovo al Al coso Che si chiama Alla città principale Visto che Non siamo in competitiva Dall'inizio Io lo dico Dibuisci la tassazione Perché sennò ti si ribellano In quella cittadina Esentala Dovresti premere due volte sulla città E cliccare esenta Allora C'è Ah questa Sì sì Beh oddio Cioè comunque siamo a meno 5 Vabbè È elevato l'esercito Beh il prossimo turno dovrebbe abbassarsi Comunque Prova a rimettere qualcosa dopo Vabbè Fa nulla Tanto un turno non si In un turno non esplodono In teoria In teoria Non lo so Ok Ah voglio fare un veloce controllo Qua per le cose Ricordati il C L'abbandonanza delle arti Il busci dolci Ok ok Perfetto E poi questo Diplomazia Con gli tostile Per giustamente Gli ho devastato Una parte del loro territorio Quindi ok A posto Ok posso Concludere Perfetto Passare il turno a me Ok tocca a me Ora Perfetto Io sono Io L'ho spiegato i dati Sì la carica Giusto Sì sì Vorrei Non mi vedi Purtroppo Cioè si vede La schermata normale Tu puoi sistemare Già roba Per il prossimo turno Tipo in teoria Credo Allora io posso solo Spostarmi di poco Non ho molto a fare Ho già sistemato Quanto riguarda Economia E tutte cose Ho 600 però Ancora da spendere Sono indeciso Su cosa fare Credo che andrò No Eh Devo aspettare Devo aspettare Io voglio Reclutare katana Reclutare Il samurai con katana Purtroppo io Vado avanti E mi accingo Anche io A prendere una città Nella zona di Ugo Anche se Sembra tipo La nuova battuta La zona di Ugo Però Non ho No ma L'esercito No mi ha staccato Soltanto il capo L'esercito Non ci credo Non ci credo Vabbè Il prossimo turno Già sarà a posto La situazione Ok Invece per quanto riguarda La padronanza delle arti Io sono partito Con la via del C Era un po' deciso Prima come avete visto La registrazione Che mi dà più 1% A tutti gli introiti Derivati dalle tasse Del clan Quindi non male Direi Passo il turno Lasciamo giocare Le altre Nazioncine Oserei dire Sì Giocavo Tomo Attori Eh Attori Sarebbe stata anche interessante Eh sì Vabbè Era nord sud Mi sembra che era più centrale Sì Era verso il centro Roba del genere Non mi ricordo Perché io già con la geografia italiana Ho problemi Mi ci mettevo a fare la geografia giapponese Ciao Eh Scusa la tosse Pirati Tu parti con i pirati Anche se c'è dei nodi commerciali iniziali ottimi Scontento di crescita In crescita Dannazione Le tensioni nella provincia hanno raggiunto livelli critici Spoceranno in un'isurrezione Se dire alla gente non verrà placata Oh mio dio Cosa posso fare Placare Ok Vediamo Un po' Eh Placare è una bella Una bella domanda poi Bello Ma io non capisco una cosa C'è il Fabro Ferraio Tipo Vabbè ok Che gli da più uno attacco corpo a corpo E più uno armatura Va bene Cioè perché io dovrei Aumentare uno all'altro Perché non mi conviene Perché gli altri sono solo attacco difesa Così mi da tutte e due Allora per quanto io mi ricordi Mi sembra che per diminuire lo scontento della popolazione Servissero tipo Cose per intrattenerli Sì O anche i miei Gli agenti Scusate se sbagliamo i nomi Però io Finceramente non mi ricordo più la cosa Tanto tempo Era un gioco a Total War E il mio Total War preferito fu Medieval Per farmi comprendere Quindi un po' di tempo fa Mi dico La regia Credo anche gli agenti C'erano lì così per il malcontento Non mi ricordo più il nome E mi ricordo anche io Una roba del genere Che tipo bloccava anche i nemici E' roba così E' Dai mi pare giù santo Come qui sia non saprei Questa città Quasi quasi la terrei così Però Degli eserciti Adesso vai A riparazione Non so che riparo la città Almeno E mi sembra anche il caso Di ripararla No no L'apertura del buco di muro E' stilistica Il muro aperto Stile Fa il suo certo stile Il terrappiano Mezzo distrutto Sai E direi di reclutare Un po' di Di gente Direi Un po' di hashigaru con iari E con arco E poi anche un paio di samurai Adesso da me vedranno L'esercito base Che si fa il giro Il mondo Ok io sto C'è la Sto andando in bancarotta Troppo Troppo Però ok E non ti preoccupare La pace C'è zi se non va in bancarotta Non si Nessuno Meggiustamente Osumi Pressione fiscale E zero Quindi non possono neanche C'è la gente che sta impazzendo Troppo Cioè Perché Nel senso Che secondo me Faranno un'insurrezione E ammazzeranno tutti quanti A breve Sì E dove si mette C'è qualcuno per questo Una rivolta Una rivolta Non gliela toglie nessuno Una rivolta al giorno Leva il medico Di torno Ah beh Anche la popolazione però Tutti morti Spero di no Quindi Ok Qua in fondo C'è un Villaggio Che è in pace Vorrei conquistarlo però Secondo me Non Ancora per poco Ma è ancora per poco Poi quando è che mi faccio Un esercito bello bello Quello addio Quindi ok Direi che posso Possere il turno Visto che ho tipo 638 monete Non me ne faccio nulla E tocca a te Sì sì Io ho già fatto A livello di costruzione Il turno Mentre tu parlavi Ho sistemato le strade Quindi Uffa Fra un po' Ancora non posso creare navi Perché io non parto Una flotta Ti dico solo questo Sono sfigato Niente flotta per me E in effetti dovrei usare anche la flotta Perché Tu dovresti andare sui nodi commerciali E in effetti Ce li ho lì Ci stavo pensando Tu sei proprio Zona nodi commerciali Ti vuoi male Se non ci fai Ci stavo pensando Però c'è anche da considerare Che Cioè mi ricordo che Andando in mare aperto C'erano problemi di No vabbè I nodi commerciali Dove Aspetta Fammi vedere un attimino Sì sì c'erano Però I nodi commerciali Ce li hai Qua attaccato a questa isoletta Un'altra isoletta Qui non conta Aveva in mare aperto Fidati Ci sono i problemi con i pirati Ma in cinese orientate No vabbè Ma comunque sia Penso che la mia flotta Resta a reggere Vabbè io Passo il turno Perché ovviamente Devo ancora fare un po' di camminata E la scampagnetta Tra le montagne Dell'Ugo No tra la zona Delle valli Tra le valli di Ugo Che ci sta tanto Ugo Che Le valli di Ugo Beh come quando ho scoperto Su Enter the Gaggia Lo sai Gli uccellini Quei là che lanciano le uova E si tirano in tanti proiettili Sì Quelli si chiamano Gigi Oddio Non sto scherzando Si chiamano Gigi Ok Sì c'è la presentazione Degli Ashigaru con arco Sta figa Non so se si vedrà No Da me quando Da me fra un paio di turni Si vede quella con i samurai Samurai con katana Ok Uh Missione assegnata Costruisci Ehi Costruisci Questo edificio Porto commerciale E mi danno Mille di monete Quindi direi che Secondo me ne vale la pena Si può fare Mi dicono Si può fare Si può fare Però devo vedere come si fa Perché non ne ho la più pari idea Allora Ehm Devi farlo prima porto E poi porto commerciale Allora Sentieri Villaggio costiero Porto Ecco qua Alizio è un po' lenta la situazione Perché in piano Ci accendiamo Forza Perché non Allora vorrei vedere come fare Per mandare le mie navi In una rotta commerciale Se si può fare Se hai una nave commerciale Basta che la mandi proprio sul punto E ti da E ti apri una rotta Però devi avere una nave commerciale Come dovrei fare Per mandare la flotta Non mi parte Ah è una nave commerciale Nella flotta Reclutamento Ah no La devo fare Ecco perché ok E allora non puoi aprire Quando hai Però puoi cominciare a esplorare Devo andare a costruire le barche Io devo arrivare fino a te Per poterci mandare C'è non ho proprio barche E' quello proprio Mio dio Io devo arrivare fino a te Quindi Mi tocca Costruirle E costruisco un paio Vada vada Eh ok da Quindi controllo un attimo La popolazione Sembrerebbe Essere tranquilla La situazione Quindi Non ci sono pericoli Di insurrezione Sembra Ok Porto Cosa? Sembra tutto tranquillo Sembra 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 Adesso Vedrai che faranno Un esercito Di 250.000 persone E mi distrugge Non è che distruggono Proprio la città Distruggono proprio il territorio Questo pezzo qua non c'è più Mio dio Che tristezza Saitama Tira un po' PAPA E' partito C'è la città che si chiama Saitama Quindi E' vero E' vero E' vero Ok Quindi Direi che posso Ok Puoi andare su Oh grazie Bene Ho sbloccato la via del C Arte perfezionata Quindi adesso io posso andare Adesso vado di Bushido Giustamente Il Bushido mi conviene Voglio ci stia però anche un pochettino Un pochettino Ah i soldi C'ho un guadagno netto Non ho abbastanza per farmi ancora Il porto commerciale Va bene Potrei fare il fabbro ferraio Fabbro d'armi O il fabbro Produttore di armi Che poi Secondo me questa è una traduzione bruttissima Perché Fabbro d'armature E' produttore di armi Ci starebbe Mamma mia Perché Perché uno fa armature L'altro fa armi Vabbè Lasciamo stare Ok dai Sono tentato di attaccare il Ligo Molto tentato Io invece voglio stringere un'alleanza La mia prima alleanza Se mi concedono questi Benvenuto nobile fratello Ciao Penso Mi sa che farò Alleanza Ok alleanza fatta Perfetto C'ho un alleato Quanto meno I Mugami Non li posso mandare a quel paese Giusto di Giusto per Ok Va bene Andiamo Padronanza delle arti L'ho settato bene Sibushido Io punterei su questo arco Quello a destra Perché ottengo più roba In realtà Quello a sinistra Dovrebbe permettervi Di migliorare La felicità E la conversione religiosa Poi andrò di militare Militare d'attacco Offensiva Non devo fare molto altro Perché io accumulo Questo turno Accumulo soldi Mi conviene Quindi vado Comunque sia Vorrei fare una piccola premessa Anche se siamo in mezzo al video Ma dettaglio Vabbè È premessa Uh Mi stanno attaccando Maledetti Comunque sia Volevo dire che Questo essendo il mio primo video Effettivo Potrebbe non essere Gran che ma Non ti preoccupare Se sono abituati alla qualità Del mio canale Non sono abituati alla qualità È esagerato È inverno Sto per avere dei problemi La vuoi fare Dire Sì Devasto Vio vai Automatica Automatica Cioè Guarda Devo segnare anche Automatica Ok Il problema È che Ho mandato due generali Spero non Non muoiano entrambi Vabbè Anche loro Penso che questo Non sia l'esercito principale Proprio L'hai Distrutti Parati Hai ucciso generale Per poco Non facevi fuori il damio Madonna Se lo facevi Era la fine Credo quasi Per loro Erano incasinati Va bene Guarda come scappa Dove vai Lo seguo Lo seguo È inverno No Devo dire È inverno Ciò significa Che se siamo in Zone Al di fuori Delle nostre regioni O dei nostri alleati Prenderemo Danno d'attrito Quindi moriranno Un po' di persone Nei nostri eserciti Ok Qua posso dire Di essere al sicuro E direi che Accumulo soldi Per i prossimi Anzi no 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 Faccio qua E mando Le mie navi Qui Nello stretto Di Tanegashima Per fare Sa anche i nomi Una Ne sa più di me Vabbè da Essendo stato in Giappone Posso dire di Almeno la geografia Ha perduto Un po' Sì da Più o meno Più o meno Più o meno Però non so come fare A Come faccio A interagire Con questo posto Eh se ti metti Se ti metti Tipo in mezzo In modalità ignorante Nello stretto Lo blocchi Di base I condizioni I miei non possono Perché tipo Non Non C'è C'è lo stretto Dove possono passare Ovviamente Se tu ti metti là E dici Nope Non passano Quindi Aspetta Sto facendo avanti e indietro Per vedere un po' Com'è Com'è la situazione No penso di averlo conquistato Base commerciale Sì Ah la base commerciale Ok Dicevi quello Ok 8 incenso Così Cosa significa di incenso Non me lo ricordo Vabbè Lo partiamo Non l'idea Penso sia Per Per l'amicizia Con Con gli altri Generali Amico mio Ti è incenso Sì sì È incenso Non ti preoccupare Non è altro Poi Ti spiego Non lo saprà mai Aspira Ok Boccate Vai È una cosa bruttissima Sì No È partita La battutaccia Ok Finisco il turno Sì Posso farlo Ok C'è Le 1500 Si Poi inverno Introduzione della Kobaya con archi E dei samurai Con katana C'è Anche se non li potrò usare La prossima Sede Io comincio a spedire Però La mia nave Nella tua zona Perché voglio Intraprendere Diplomazia Con te Anche Ci metterà 60 anni Ad arrivare Tipo Però Io ci provo Oddio Alla fine Questa Cosa potrebbe andare a finire Con noi Che facciamo un'alleanza E devastiamo tutto il Giappone Di base Sì L'idea iniziale Poi Ci sarà poi La devastazione Tra di noi Dopo Perché a me conviene Che tu mi dai il nord E tu ti tieni il sud Anche se il sud È più po' È migliore A me conviene Perché Anche le mie piccole rotte Comerci Anche le mie piccole rotte E tu hai un pillo di isole Vabbè Per qua c'è la mia prima battaglia Io la voglierei far vedere Faccio un salvataggio rapido Ok Lo posso fare Non lo sapevo Tu devi Tu vuoi osservare? Sì Ok Come faccio? Ci dovrebbe essere il tastino a destra Puoi osservare o combattere Però dai Non combattere Eh Come faccio? No vabbè Mi sa che Una No vabbè Posso fare una risoluzione automatica Io dell'assalto Mi converrebbe Non lo faccio pure voi Eh Non l'abbiamo ancora fatta vedere Neanche una Eh La faccio vedere la prossima Fai in basso a sinistra Risoluzione automatica Anche tu Ok Perché Come si può dire Io Non sono bravo Nella sede Vittoria decisiva Però Sono bravo a difendermi Strano Ho scelto un plan aggressivo E sono bravo a difendermi Sì sono un pirla Ah ok Eri tu che stavi attaccando No perché mi stava dicendo Sconfitta Ha detto no Sì No occupazione pacifica E poi Esenta dall'imposta La provincia E il prossimo turno La La riparo Aspetta però Io a sto punto Evito di costruirmi Però la Ehm No il porto commerciale Lo devo fare Devo aver costruito I fabbro ferraio No No il mercato Non lo posso Smantellare così Però forse Se ci metto il nami Guadagno di più Sì magari Intanto comincio a spedire Già Le mie truppe Più avanti E nel frattempo Loro però Si stanno avvicinando In zona In modo stronzo Eh Quelli di Ugo Gli Sono In Mogami In Mogami In Mogami Travolo Però L'ho presa dai Meglio di nulla Non ci avrei mai scommesso Ecco di base Perfetto Costruzione Tutto a posto Direi che per questo Turno può essere tutto Vediamo la padronanza Delle arti Giusto per sicurezza Ancora uno All'inizio del Bushido Che è esattamente La prima Sì proprio il Bushido Ok Complimenti Gestione del clan È una cosa importante No ancora non posso sistemare Gli altri aiutanti Va bene Passo il turno Facciamo finire Questo lungo inverno Di sangue Non abbiamo ancora Fatto vedere Una battaglia Però fra poco Ce ne sarà una Per forza Caspita Hanno attaccato La città Degli Igo Mio dio Siamo già Come Stanno cominciando Duro È proprio Anche laia Sì Proprio dura 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 Che non me l'ha fatta Settare Credo che si potesse Settare Quindi probabilmente Sarà un livello alto Ok Siamo in Estate C'è scritto C'è scritto di base Primavera Primavera È inverno Inverno Primavera Scusate Ok E io attacco Eh vabbè C'è qua Non c'è proprio La vuoi vedere La battaglia Quando mi dà opzioni Dipende da te Sì Fa vedere Vabbè Ho messo in automatico 150 persone 775 Perse due Mamma mia Ok Però Quelli due Sono stati Gli sfigati Se vi tira così Mamma mia Veramente Ok E sono morti Perfetto Il generale aumenta di grado Shimazu Takahisa Questo generale È pronto a sviluppare Le sue abilità Avendo affinato La sua capacità A comandare Secondo 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 Ho conquistato Mare cinesi orientale Quindi Non saprei Dipende Cioè Vabbè Commerci con l'impero cinese Eh Gli stranieri Eh Dovresti essere nazionalista Tu sei troppo con gli stranieri Eh lo so Dovremmo sistemarla Stacca O Aspetta Mi sto mettendo nei guai Ti sta incasinando tantissimo Sì perché C'ho due eserciti De lito Contro Però Il primo È debolissimo Il secondo Non so Non saprei Sper Comunque sia Penso che Eh sì Dovesti però potenziare Il tuo Il tuo Sì Damio È vero C'è un'abilità Eh però Prima lo devi fare Automatica È automatica O no Sì è automatica Cado a sezionare anch'io Cioè Oh Tu c'hai sempre I due sfigati Che muoiono I due pirli Battaglia vitoriosa Dicono Io ho vinto Mollo la lancia Mollo la ro Morto Morti Allora Ok Servitori Majin Il go Insegna l'arte Della strategia A quest'uomo Vrendante Incarna la vittoria Attraverso l'astuzia Poeta waka Più uno lealtà Waka waka Io direi Di mettere No Ti prego No Scusami Scusami Mi partono le citazioni Volanti a roba brutta Beh io direi di mettere Recluto altre persone Perché non mi fido a lasciare Così Il territorio così scoperto Poi Avrei voluto potenziare la capitale Cioè la capitale Satsuma Però non ho abbastanza Mi tocca aspettare Mi tocca aspettare Ma io L'ho già potenziata abbastanza bene Per dire Non posso fare di più Tranne per il porto Però il commerciale L'ho già avviato A livello economico Sono messo un po' meglio Ok Penso di poter Dare il turno Dai dai il turno E' raro che facciamo questo turno E poi concludiamo il video Perché siamo già ai 20 minuti circa Io Ho ricercato Bushido qua Quindi più uno Al morale di tutte le unità Che è ottimo per me Poi andrò molto bene Per le strategie d'attacco E via delle spade La spada E roba del genere Perché io ho bonus E io mi punterò su quello Perché ho bonus alle cariche Però per adesso Adesso Prima di tutto Vado su Todufuken Credo di averlo detto giusto Che non sia morto un giapponese Mentre lo dicevo È morto È proprio morto Come quando disegno Che muore un pittore Sì è vero Sì è vero Attento tranquillo Sì è vero Certo Che mi permette La costruzione di scambio di riso Che è il mercato avanzato Se non erro Meno 5% Al costo di mantenimento Di tutte le esercite Le flotte Che è un buon Bonus Ora C'è questo esercito Dei Mogami Che non è troppo forte Ha solo 4 unità Io Sinceramente Ho bonus alla carica Quindi mi conviene Attaccarlo Di base Però vorrei far arrivare I miei Samurai Con Gatara Che purtroppo Sono troppo lontani Quindi mi Dovrò attaccarlo Per forza così Vediamo un attimino Dovrebbe essere È brutta È brutta Perché se gli attacco Non posso Seguirli Sai Questa la faccio vedere Perché è l'ultima battaglia Proprio Se gli attacco Non posso Salvo Magari così Se ci sono problemi Riprendiamo da qui Non posso Seguirli Perché se no Lascio scoperto Il coso Si ribella È pur sempre In bilico Perché io Ho 475 Contro 407 Però se la gioco Dovrei farcela Magari Quindi O scegli osserva Giocca come Ia? No Scegli osserva No osserva Non ti intromete Non ti intromete L'officina migliore All'armatura E la difesa Del corpo Al corpo Di tutte le unità Che palle Che vi hanno ancora dato Le citazioni A poesie giapponesi Oppure A modi di dire Sono triste Avevo già preparato Tutta la musica La voce Ce l'ho pronta Da vecchietto saggio Sai Pensavo se stessi Dicendo vecchietto sardo No vecchietto sardo Perché chi non lo sa Siamo sardi Quindi Esatto Di base Per questo Ok Interessante È un buon Cioè Più che altro Ho un vantaggio Se carico Io ovviamente Sono per La tattica Base Di costruire Davanti a me Una semplicissima linea In questo caso Prendermi una posizione Di vantaggio Per vedere Cosa fanno i pirli Di base Però Per prendermi In posizione di vantaggio Io direi Tra queste due Puoi scrivere Puoi scrivere In chat Casomai Potrei condividere Unità Tipo anche Però no Mi riunisco Attivo il gruppo Che magari me lo tiene così Sì esatto Me lo tiene così Per fortuna Ok E qua Ho letto Ok Iniziamo Lagga un pochettino Ma perché sto stando io Normale Mettiamo un po' La velocità Di questa battaglia Perché se no Tre anni e mezzo Loro sono di difesa E' bellissimo Vedere come zompettano Come vanno Quanto la devi giocare bene Ma io ho i vantaggi in carica Se Se perdo un attimo la posizione Loro riesco a Rompere le scatole Poi dovrei avere le unità Ho un'unità che ha un vantaggio Tipo di Di esperienza Quindi basta mettermi In una posizione All'inizio Offensiva Con tipo Sai le montagne Che ci sono Colline Che ci sono tipo qua Non posso piccare C'era un modo per pingare Tipo Mi ricordo Di medicatore Ecco qua Capito Ok Si vede la bandiera Esatto Se io tipo metto qua Quelli con l'arco Forse ci arrivano a colpirli A me va bene Perché la IA E' un po' stupida Perché non gli Non gli metto informazione Allargata Se sai Cioè non li faccio avanzare Al limite Da soli Quelli con l'arco Sono tutti appiedati Tranne il generale Sarebbe un suicidio Sono tutti appiedati Tranne Il generale Che se si stacca A me va bene Di base va benissimo Il generale Da questa parte C'è molta Cavalleria C'è soltanto E soprattutto Anche Lanceri Ora Shigaru con l'arco Io direi Posizione avanzata Così Però Devo fare avanzare Un po' che tiro questi No no Avanzano Vedi come sono pirli Quelli dell'AIA Perché non li mettono In posizione allargata Quindi prendono più danni Per dire Ho già recuperato Lo svantaggio che avevo In effetti Quindi Io dico Che mi elimino Pian piano gli arcieri Gli stuzzico Di subito Quando uno comincia A bersagliare Gli arcieri L'AIA Si muove Quell'avversario E faccio avanzare Le mie unità Poi inoltre Io possiedo Unità di livello Maggiore Perché ho Una con esperienza Aumentata Della Shigaru Stanno arrivando I lanceri Ok Tiro via Diminisco la velocità E si ritirano Gli arcieri Ok Guarda adesso Ora mi conviene A me A teoria quelli con le katane Dovrebbero essere Tipo super efficaci Anoiari Non ho katane Purtroppo Però ho samurai Adesso io vado Di carica Mette tanto Metto il generale Leggermente In posizione dietro Purtro Però comunque La carica La vinco io Lei è ovvio Loro poi stanno Tenendo fuori La Shigaru Io dico di Levare dal fronte I nostri I nostri Cari samurai Attivargli la abilità Per correre più veloce Ok Dal mie si pese un po' Per caricare Che è un po' veloce E poi gli spedisco dietro A fargli il colo di bottiglia Vai Va così Così fanno anche Un'altra carica Che ha comunque Il vantaggio della carica Di questo personaggio Come vedi infatti C'è già Che si sta Chi sta andando in rotta E posso già mandare Il mio Adoratissimo Generale A potenziare A ispirare I miei Amici E nel frattempo A chiudere E eliminare L'esercito avversario Credo che sia vinta Come battaglia Non posso continuare Oh che cosa macabra Vittoria decisi Sì è vero Sempre stato macabro Questo Mamma mia Il medieval 2 Era più Tranquillo Su questo verso Però l'ho vinta In scioltezza Se avessi fatto battaglia automatica Molto probabilmente Sarebbe stata persa Oddio No no L'avrebbero persa 95 morti Sono pochi Per eserciti di livello pari Di base Poi per non avevo I samurai con katana Cosa rimane di questi In generale aumenta di grado Date gli oshinori Ecco Se ci No non ce la faccio Purtroppo non posso attaccarli Aumenta di grado Io punterò su un generale Che arriva A leader di fanteria Perché consente Fino alla morte Spettacolare come abilità Quindi stratega E rientro qua dentro Per sistemare La città Ah posso mettergli anche Una Come si chiama Una Di queste Una O un'amante ordinaria Va bene Così Oh io ho soldo Un'amante ordinaria E il bello Che sotto c'è scritto Oh che bello no Perché Oppure Ragazzo che adora gli eroi I giovani impressionabili Possono tornare utili E coso Di Bokuruiro Sì esatto Vitoria Ci sei arrivato La dovevo fare No Più uno al morale di questo generale Alla sua guardia del corpo L'altra vi da Un meno uno al morale dell'esercito Quindi no Ok Io direi che potremmo anche concludere qua Per questo video Posso salvare Quindi salvo Meno male Salvo Magari riusciamo ad aprirla dopo Controllo Però comunque io direi di concludere qua Allora 37 minuti di video Questo non lo caricherò mai Praticamente Ringrazio che non ho webcam Perché sennò domani Eh Sì sì Web Aventava ancora di più il peso Però prima faccio muovere un pochettino La mia flotta Ok Gli faccio percorrere un po' la situazione Magari Quindi pian piano si muove Perché parte sta arrivando? È dal basso Vai lontana Lontana È dal basso Non ti preoccupare Arriverà tra un bel po' Comunque Quindi Per questo video È tutto Da Leone è tutto Saluto anche tu Da Ryukudan pure Ciao ragazzi A un prossimo video Ciao